Amici carissimi, il bel tempo ci mette privilegiati anche in questi giorni che sono animati da alcune realtà che adesso intendo presentarvi anche se in maniera succinta qui in trasmissione. Di che cosa voglio parlarvi? Lo indico subito con questa foto che Gianluca ci fa vedere, cioè azione cattolica rinnovo delle cariche triennali. Ora voi sapete, mi ricordo del motto di Monsignor Paolo Rabitti, il quale essendo assistente diocesano regionale dell'azione cattolica diceva Io non ho mai visto una parrocchia ben impostata senza l'azione cattolica. Quindi speriamo che questo momento diocesano della elezione del nuovo presidente o della conferma, io non lo so, di Samori già come presidente in atto, oppure anche dell'assistente diocesano Don Pietro Fabri che anche quello è già da alcuni anni. Ma mi interessa farvi vedere il motto dell'Assemblea dell'azione cattolica che dice Fare nuove tutte le cose radicati nel futuro custodi dell'essenziale. E' logico che qui si gioca un po' sull'emozione della composizione di termini che in sé hanno un grande valore, molto bello. Fare nuove tutte le cose non vuol dire che fino adesso non si sia operato bene, ma è l'applicazione del motto giusto biblico della realtà che sta al tempo e che quindi va portata avanti con gioia. E poi guardate questa frase molto bella, radicati nel futuro, cioè il cristiano è colui che basa la sua fede, la fonda su un Cristo morte e risorto e che è il fondamento del futuro. Io cosa posso dirvi? Farò relazione, vi porterò i nuovi eletti, sia il presidente sia l'assistente, ma intanto preghiamo che domenica pomeriggio, 19 febbraio, nel Salone di San Paolo, ci sia un'azione concorde, un'azione partecipata di modo che si possa parlare di preghiera allo Spirito Santo che dona alla diocese di Forlì un'azione cattolica responsabile e con modalità di futuro immediato, ma anche nella prospettiva. Siamo nella settimana, due settimane dopo, la festa della Madonna del Fuoco e io vi dico che la distribuzione, ecco, 1500 coppie, pensate, del testo con tutte le omelie di Monsignor Bressan, è andato a Ruba, non ne abbiamo più, adesso io prima di arrivare alla diocese a chiedere che ne facciano altre coppie, vorrei avere la conferma dell'uso che se ne fa di questo librettino. E io vorrei proprio fermarmi sull'ultima omelia messa nel testo da Monsignor Bressan che è quella relativa al giorno della festa. Dunque, è inutile star lì a ripetere che la festa della Madonna del Fuoco di quest'anno ha battuto tutti i record di partecipazione, direi anche di serietà, di composizione, favorita anche dal tempo, ecco, eravamo in un tempo primaverile, vi ricordate quando alcuni anni fa ci fu quel grande nevone, ecco, e in più una partecipazione della gente che non solo entrava in chiesa così come curiosità, come capita sempre nei momenti delle grandi feste, ma anche proprio con sentimento e con indicazione della propria devozione mariana. Ecco, questo testo ha un titolo un po' particolare perché Monsignor Bressan ha sempre giocato un po' sulla titolazione dei suoi interventi, è intitolato Maria, madre dell'incontro per la vita. Dice molto, cioè non ci si incontra per una devozione del passato, per un ricordo, ecco, ma per la vita. E nell'ultima sua meditazione, nell'ultima sua omelia, ha uno schema che adesso qui io vi presento, che a me piace molto, sul quale già da alcuni giorni ci sto ripensando, meditando, perché sapete che io sono normalmente in Duomo, nella sacrestia, lì con la luce accesa sul confessionale, perché anche se è terminato il ciclo dell'anno santo, è rimasta comunque aperta non la porta, cosiddetta porta santa, ma la porta del cuore, e la partecipazione e la richiesta della confessione è ancora oggi un motivo di impegno notevole. Questo mi fiacca un po' fisicamente, ma è necessario dare risposta valida a questa richiesta finché c'è. Bene, allora, nella festa della Madonna del Fuoco, Mons. Bressan ha fatto cinque stalloncini, il primo dei quali è intitolato Il Fuoco è un Dono, il secondo Maria Custode del Fuoco, Maria Vergine e Madre Roveto Ardente, quarto il fuoco dell'amore, Maria ci sostiene nel fuoco della missione. Ecco, io vorrei parlarvi così brevemente un po' di questo capitolo che è illuminato, pensate, da due grandi testi mariani fatti da una teologa americana, Elizabeth Johnson. E questo come fondamento, ma poi questo come conseguenza, è intitolato Vera Nostra Sorella, una teologia di Maria nella Comunione dei Santi. Il concetto fondamentale che dobbiamo tenere presente noi, sempre, ogni qualvolta parliamo della Madonna, la preghiamo e ci sentiamo devoti di Maria sotto l'aspetto delle diverse catalogazioni dei titoli che diamo. Il fatto fondamentale è che Maria, la Madonna, ha vissuto come donna ebrea, ha vissuto i suoi giorni nella semplicità della vita di ogni donna al tempo di Gesù, nelle difficoltà, è logico, no, del suo trapasso da Nazareth a Betlemme, da Betlemme all'Egitto, però non sappiamo dove fosse questo luogo. Pensate, se potesse venire fuori l'indicazione del luogo in cui Maria, Giuseppe e Gesù sono andati in Egitto, dove sono rimasti cinque anni. Quando Gesù torna a Nazareth, ha già fatto una grande e bella esperienza di vita che con papà e mamma era realizzata in Egitto. Di questo sappiamo niente, purtroppo, chi lo sa col tempo. Ma intanto voglio dire, ecco, che tutto lo studio mariano fatto sull'incentivo del Vaticano II, ecco perché l'ottavo capitolo del testo sulla Madonna fatta dal Vaticano è quello che ancora oggi sta a base della vera devozione e del vero approfondimento della teologia. E questo libro, oh, è difficile e non è da mettersi in mano a tutti, ecco perché lo studio che fa Elizabeth Johnson è proprio quello di una ricerca di tutte le testimonianze che possono convalidare il suo tema di Maria, donna ebrea. Donna che ha vissuto nella modalità più semplice al tempo, ma nello stesso tempo rispondente pienamente al progetto di Dio. Quindi è una teologia di Maria, nella comunione dei santi. Io non so, se volete posso anche suggerirlo, ma attenzione che mettendoci di fronte a un testo come questo c'è da avere buona volontà a arrivare in fondo, ecco, perché sono più di 500 pagine che si leggono bene e che aiutano la comprensione di un modo nuovo di capire la devozione mariana. Questo è un tema sul quale penso di poter suggerire qualche cosa il prossimo anno, quando già si deve pensare che il 4 febbraio del 2018 dovrà avvalersi anche dell'esperienza che abbiamo fatto nel 2017. Allora, stando ai titoli, ecco, il fuoco è un dono. Guardate che M. Bressan parte dalla consapevolezza comune a tutti, dei quattro elementi fondamentali della storia, della vita, della terra e indica che questo fondamento è una realtà che nel fuoco ha la sua espressione più viva e dice proprio che questa espressione del fuoco, permanente nella sua realtà insieme dinamica e misteriosa, volatile, abbarbicato alla terra, trasparente, terribile, naturale, nello stesso tempo ineffabile, con caratteristiche apprezzate e invise, illumina, riscalda, purifica, vivifica, distrugge, ammorbidisce i metalli. Cioè il fuoco è un simbolo biblico bellissimo che richiama continuamente il rapporto fra la creazione e il creatore. Bellissimo quello che qui Bressan scrive nella omelia che concede perché definisce subito Maria custode del fuoco. Allora attenzione, dice Bressan, anche Maria Santissima, cui come ogni donna dell'antichità era affidata la responsabilità di custodire il fuoco in casa perché fosse sempre pronto, si trattava quindi di un impegno delicato che esigeva profonda attenzione e cura di non sprecare la legna che restava preziosa e non distruggere la casa con un incendio. È un riflesso di quell'ammaestramento che ci viene anche dall'enciclica laudato sì del Papa, di Papa Francesco, impegnarsi per un equo progresso umano ma non ritenere che possiamo distruggere più energia di quella di cui disponiamo. Guardate che lo studio che ha fatto Papa Francesco nei suoi testi pubblicati in relazione al domani molto presentano la necessità di un rispetto, di un amore, ma anche di un rispetto del creato. Dice il Monsignor Bressan, non siamo autorizzati a deteriorare le condizioni di vita per le generazioni che ci seguiranno poiché il creato è affidato a tutta l'umanità, non ne siamo noi i padroni. Guardate, anche nelle nostre piccole cose, nella nostra modalità di condurre la vita, usare giustamente le cose nel rispetto della loro entità è formidabile. Al numero tre, Bressan dice, Maria Vergine e Madre è roveto ardente. Qui c'è un passaggio biblico che è bello perché dice così La Bibbia conosce il fuoco nei suoi vari aspetti. Per l'uso domestico è noto come sia di prima necessità per la vita dell'uomo, per riscaldarsi, per cuostere gli alimenti, per rischiare le tenebre. Sa anche che il fuoco può essere usato per distruggere cose e persone, fino a diventare arma di guerra e punizione anche eterna. Esso è pure manifestazione di Dio. A riguardo possiamo soffermarci su quanto dicono i padri della Chiesa circa Maria. Maria vista come roveto ardente, madre che sempre rimane vergine, fino a giungere ad un'iconografia che rappresenta Maria all'interno di una raffigurazione simbolica, ma che rispecchia la sua realtà. E allora ecco il quarto punto, il fuoco dell'amore. Il fuoco per la Bibbia è un grande simbolo dell'amore. Geremia era tentata di abbandonare ogni impegno sociale, ma poi ammise, nel mio cuore c'era un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. E così proseguì la sua missione. Il fuoco è la radice dello zelo di tanti missionari del passato e del presente. di persone che si consacrono alla vita religiosa e nel volontariato, in movimenti ecclesiali nelle famiglie, nell'attività sociale e per una politica diversa. Dopo aver incontrato Cristo, come scriveva San Paolo, tutto il mondo ha un aspetto diverso, poiché egli desidera per ciascuno di noi un'esistenza in pienezza e non una vita triste, ripiegata su noi stessi in modo autoreferenziale. Il fuoco dell'amore fa la differenza. Nel Cantico dei Cantici leggiamo Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte come la morte è l'amore, le sue vampe sono vampe di fuoco e una fiamma divina, le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. Dal simbolismo del Cantico dei Cantici noi dobbiamo recuperare, dice Bressan, la figura bella del fuoco dell'amore messo nella storia non solo personale di Maria, ma anche, ecco, nella modalità devozionale dei nostri santuari e della nostra vita cristiana. Pensiamo certamente alla bellezza dell'amore di due novelli sposi, ma anche in quella fiamma che va costantemente alimentata nella vita di famiglia, sia nel rapporto tra coniugi, sia in quello con i figli e nell'insieme della famiglia. Nulla è scontato, ma va costantemente acquisito. La grazia del sacramento del matrimonio è data non per il giorno delle nozze, ma per tutta la vita. E nel testo dell'Amoris Laetitia di Papa Francesco abbiamo pagine e pagine su questa realtà che rende gioiosa la vita familiare. Penso a Maria, dice Bressan, che sapeva alimentare di amore la casa di Nazareth nell'attenzione verso Giuseppe e Gesù, nella cura di mille e anche piccole cose della fraterialità. Maria, proprio perché aveva ricevuto lo spirito dell'amore già nell'Annunciazione, sapeva che alla vita non poteva essere che riconoscenza. Poi qui basta accennare al Magnificat per capire come la teologia, fin dall'inizio, e la storia della comunità cristiana ha impersonato in Maria tutta la storia della salvezza. Il Magnificat è la sintesi meravigliosa di tutta la storia antecedente per arrivare al sì che lei compie come obbedienza richiesta. Ultimo punto che mette in evidenza Bressan è quello di evidenziare che Maria ci sostiene nel fuoco della missione. Ecco, questo è un aspetto importante perché quando noi facciamo una festa mariana, sì, è logico che facciamo culto, facciamo devozione, facciamo espressione d'amore verso Maria, ma la vera realtà sulla quale dobbiamo essere ben rigidi è l'attuazione della nostra vita di questa realtà che in Maria ha il suo prototipo. Maria è colei che è rimasta con gli apostoli fino alla Pentecoste e la fiamma dello Spirito Santo l'ha sempre guidata a tal punto che anche oggi nella Chiesa è riferimento di questa nuova umanità che si mette nella prospettiva della testimonianza più viva dell'amore. La Chiesa, la Chiesa Forlivese, con la festa della Madonna del Fuoco, secondo me ha scritto una pagina che è già a lunghe, pagina nella storia, ma che è nuova nella modalità di partecipazione. A tal punto che Bressan, concludendo questa serie delle sue omelie, dice, rivolto al popolo di Forlì, guardate che simpatico è stato, popolo di Forlì, che veneri così profondamente alla Vergine del Fuoco, possa tu essere sempre alimentato da questo fuoco interiore e che esso non sia mai spento. Che tu non ceda alla tentazione dell'indifferenza, ma sull'esempio di Maria, che ti ha protetto lunghi secoli, porta quella fiamma di vita perché si sviluppi in pienezza e sia incoraggiamento e modello di impegno cristiano anche per la nostra città, per le altre città e per tutta la nostra diocese. Ecco, ho voluto accennarvi a questo libretto che non è mai stato fatto, una cosa simile, cioè di consegnare a tutti le omelie fatte durante la novena, proprio perché in casa si continui a leggerle, si continui a meditare, si continui a fare proprio quel messaggio che il giorno della festa ha visto una partecipazione trionfale, ma che ora quotidianamente deve avere una testimonianza di credibilità e di attuazione serena delle proprie responsabilità. Io sono contento di avervene riparlato ancora, non ne ho più copie e se mi fossero richieste sentirò quella di oggi se me ne fanno altre, ma il titolo di Maria, madre dell'incontro per la vita, è e deve essere un impegno per tutti i nostri giorni a venire. Grazie, vi saluto e buona attenzione ai segni della devozione mariana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.